un amico fare questo ci stata questa bella ci stata in in bot lane con con a dc red in 2 2 in chiedere mi sta troppo sul cazzo adesso adesso lo zittiamo dai guys ed e se work qui qui o cani qui ora un sort attenzione perché potessi essere leggerlo ricordo cerca di prendere più di vision se riesce e hanno piaciuto una guarda qua in top qui 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 ok tutto ok tutto per fare il gank al 2 il botto va bene va bene allora sta roba la proposta blu start a blu dai fai quello che vuoi quello che vuoi siamo ancora in tempo hai uno stun però non fai danno ok tu dai due e nono dopo io mi faccio pusciare no 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 problema poi sarei botti in casa a livello 1 siamo molto più deboli rispettiamo le loro aras tinti al talk good for all in manteniamo hp siamo sulla cristal lond faccio finta di fare il bulletto ma non sono bulletto attenzione è guardato qui hanno guardato prima puoi tardare quando fa così auto qui la puoi fare va bene va bene occhio all'idea dell'amico geppetto abbiamo la verità c'è una scelta livello 2 senza motivo forse c'è zack al 2 ma dubito posso andare bene flash mf flash nami non c'hanno l'ignite non c'è nulla java lo dire pensato mf no sono flesciato potremmo rinami guardare becca becca perfetto dovrebbe essere topside credo mi è sembrato pull assur in bot occhio mid può ingaggiare mid vengo mid lane ha guardato comunichiamo queste cose c'è spuglia guardato se lo so grazie occhio becca becca vado per i ganky bot ho guardato di qua zack potrebbe cercare un ganky mid va bene ok va bene top 1 per 1 qui c'è ok ok niente allora zack stanno andando fai da adesso ecco i zack ok la bot è bot la bot è bot si tergiuvi 1 la bot si spinge stanno arrivando join anche io da dietro attenzione facciamo sempre io una ue lo uccido facciamo la bot lane nasus nasus che join via via e ne vado becca vabbè 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 vabb L'altro, l'altro Lo stanno a breve Sono top da te, Enrico Sì, arrivo, calma, calma Era good, ho flasho troppo anti, tranquilli Dai tippa, va bene, dai Vengo mid lane Ragazzi attenti, fate clearare solo la giungla Info jungler Top side che clear Bene, arrivo mid, ha il flash Non lo so Sì Tu fra quanto il sei? C'è l'amica Nami qui Devo vision Guarda per Zack Zack è bot side Manca Nami, ok, Nami è bot Ho bisogno di stack, sono molto indietro Tra ulti up ragazzi Zack dov'è? Da qui, non abbiamo visto Ok, quindi bot passivo, non push up Ok Zack è top No, è il bug della minimop Non ti preoccupare Nasus scende Alla uschi Ingaggia, ingaggia Non c'è bisogno Può sempre ingaggiare se fa la stupida Fa la stupida Posso anche lasciare lì in faccia Nasus, gli faccio in faccia Pozza, pozza Vado back Oh, bare MF su quel minion Ingaggia su MF Su anche Nami mi piacerebbe Possiamo derivarli Questo Prendiamo a Drake anche? No, no, no Sono lento Non ho smite Zack arriva La botta breve Eccolo qua, infatti Possiamo killarlo? Non ho i danni Non ho i danni Non ho i danni Manca Nasus Spendo carretto Con me questo drag Invece lo faccio Non ho niente da fare in giungla Non c'è una lenga ingancabile Eh ma Ci fa doppio Non hai detto Se forziamo Rischiamo Potete venire da me? Ok, ok Grazie Rico comunica Mi raccomando Non andare in tilt No, no, no Ragazzi Sono tranquillissimo Fuori dai pensieri Giochiamo nell'azione Dai Sì, sì Questa muore Ti la ulti Zack info Non c'è Stava farmando botte Penso che stia andando topside di nuovo Stiamo in lane Paolo Prendi il 6 Così facciamo una play tra poco Gioca passivo Abbiamo il 6? No Un minuto Posso ingaggiarti Ma dubito Faccio finire di ingaggiare Io vado back Che è finito il mana Verso un'ora e mezza botte Bravissimi Bravissimi Io ho pensato Gioca per Erold Gioca per Erold E occhio perché top C'è la Questa Non c'è la faccia La faccia La faccia Improbabile Ma è impossibile Ma top non è la prima I max La facciamo a giocare Occhio Io vedo Ancarezzerci Zac Manca Nasus Non ha la ulti Nasus Io gli ho usato Lidna Zac è qua che farma E Nasus è back Probabilmente ora Lo sanno che li vediamo Paolo Lo sa per forza Sì lo so Posso volerciare su di lei Occhio Irelia Le flecce in faccia Muore Irelia è nella mia giungla Va bene Occhio occhio Vai pure botte Gioca 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 Possiamo resettare Paolo 1700 gold Prendo tab Resettate appena tornate Ligan Prendo no Prendo tab Prendo swiftness Lo muovo Un pazzo Vengo mid lane Ci sono anch'io Per quando arrivi Ha il flash Nasus Sì Ma non ha la R Non so Tra quanto ce l'abbia Non ha vision su Nasus Occhio Zac Ti vuole anche da qui E da qui Alla vostra Vinciamo? Sono in tre Non è facile reagire Il mio posizionamento è molto buono Zac top Zac top Va dai vato l'amico Gioppetto Oh no io sono safe Io sono safe No io vado dai vato Ok ok Con calma Manca namibot Manca namibot Hai ingaggiato Adesso andiamo Zac top ragazzi Zac top E' morto di niente E' morto di niente E' morto di niente E' morto di niente Io potevo ultarlo Non ho tryhardato Va bene così Va bene così Ho usato la mia ulti E' fine Ci sono morto in top Non fa niente Beh abile anche quella Te l'ha ulto Te l'ha ulto Me l'ha ulto Non ti preoccupare Va bene va bene Arrivo botto Arrivo botto E io non la voglio far recollare No no va bene va bene Ah ok si Se riesce a pocarlo va bene Guarda qui Qui ci sono Tende nami Sì ha anche la passiva Zac è vero Vabbè vabbè Non hanno ancora fatto l'herald Giochiamo per herald noi Non lo so Paolo Sì Yes sir Arrivo topside Venite top che Sì sì Alla blade sicuramente E dei darci che farà una giocata aggressiva ora Puniamolo Bravo 40 secondi alla mia R Sono troppi mi sa Però non importa Arrivo subito Io ce l'ho però Ok Lui ha già le mercury Sì dei darci sta giocando 80% di tenacity È dura tenerlo fermo Possiamo baitare Quanto ci sei ok Puoi baitare Mi fa lo stupido Qui manca nami ragazzi in bot Giochiamo per herald Nami è qua Dai va bene l'amico geppetto No 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 Dai va bene no Dai va bene no Non me l'ho schivata Facciamo la roma be herald Quindi sarà la quanta che qua Vieni vieni i botti Vieni La posso ingaggiare Qua da qua da qua da qua No 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 Non nasus ragazzi Tutti in giro In fila Ho il flash Bene va bene no problem dai Ho messo il flash Ho messo il flash Non ho capito È già morto comunque Sì 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 ma volevo flash Vabbè non se ne parla dai Sì sì ma volevo flash Mf e nami ci fanno in un bocchino Questo qua sta pushando qua Io prendo il carretto Se riesco Giochiamo per okami E snowballiamo C'è una kaisa enorme Abbiamo Bravissimo Bravissimo Questo è drago free Arrivo No a mid non possiamo tenerla Accelerate va bene E zac mi sta fregando La giungla topside Potrebbero divarti a te Sì sì stai attento Stai attento Vai tranquillo Abbiamo di nuovo due draghi Stavolta la botta in me gigante Giochiamo sempre per i draghi Ok che qua ci sono Irelia e potenzialmente Giacch Non ho niente io Paolo E qui voglio che muoiano Voglio che muoiano Ecco ho kraken Ok va bene Viene uguale Ricolliamo No 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 Va bene vai ci sono Ci siamo Mf farà 7 secondi Anche 10 Occhio Occhio Mid lane La mia mid va bene Bravi bravi Usciamo Usciamo Che cazzo Abbiamo fatto a fare Se non prendiamo a bett Zacc da me Non fanno niente Non fanno niente Ho la ultima In 5 secondi Fatevelo Fatevelo Combattere Combattere 4 secondi Alla mia R E a terra lui Riesce a farlo Paolo No non ci riescerà mai Paolo da solo Anche Irelia Nel tank Comunque in ogni caso Non fa niente E giochiamo per torre top Giamo per torre top E la teniamo ferma Molto meglio di prima Prima eravamo 15 a 2 10-14 Sto game è completamente diverso Da prima Ma poi Per me è stabile Per me prendi bene Poi questa mi sforza Un super extend Oh fuck Io ce li dai Mi serve aiuto Mangia sto tipo Mi hanno visto in un award Lo sanno che sono da questo side Farma quella wave E poi swappatevi Due Andarmene Absolutely Va bene Ale Gioca dai Che lo sta giocando Rimaniamo Rimaniamo Sta giocando a un terzo Dei due potenzialità Dai cazzo Svegliamoci eh Perfetto bravissimo 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 Ok good Va bene va bene Buona Shaddam Ha flashato lei Ha flashato ulti Va bene bravissimi Pusho la prossima wave in bot io Io Una e difendo top Questa questa Va bene bravi ragazzi Va bene Io non posso più rimanere botline Hanno cominciato a gerare Io vado in midline adesso La meccio io La meccio io La meccero io La faccio una top Da nasus Faccio dps Ok giochiamo per torre bot adesso Si dico Vai bot Difendiamo se wave Non avere paura a cambio C'è quello man Brava La ultima joinare io ancora Punta pure loro Punta pure loro Vieni vieni Non ho la passiva Non ho la passiva Non ho la passiva Non ho la passiva Bene Bravi 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 cazzo Io pusho top Ok canzone Formare Formare Devo cadere Fermiamo le wave Fermiamo le wave Lei sta entrando Ah no Cheirei le botte 24 secondi Secondo me cade Andiamo a bot E parliamo di meno Comunichiamo di più Per favore Silenzio un attimo Giocava per bot Pulisci la cosa 20 secondi Giocava per questa wave Ari la rimettiamo mid Arrivo drago Anzi regoliamo Scusate Regoliamo Questo sta entrando 5 secondi ulti Rimangi in range Viene qui muore E lui fa il bullet Fa 0 da bullet Si 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 Ok no è lontano Ok c'è un minuto Sono mid Finiamo cami mid E Ari bot Ricollo per drake Vi chiamo attorno a pool 55 secondi Herald 20 secondi Drake Grazie un importante ragazze Me la faccio io Direi che siamo leggermente late Secondo me GPLTP Sì Occhio voto Alessandra viva Ok attenzione Naomi Solo con te Paolo Attenzione qua Naomi No posso Siamo safe Siamo safe Siamo safe A posto Riposizioniamoci Abbiamo la ulti di Ari Va bene Possiamo divapparlo Non abbiamo neanche la mia ulti Per me si può divappare Yes sir Ok Se provo lo steal Crediamo qualcosa Sì Non provarci Va bene Va bene Gliobber Almas L'Aral lo facciamo Anche ieri Anche ieri 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 Nasus Asus non ha flash Nasus non ha flash Io resto a proteggere i botte Giorgio Gon Stanno ruotando per l'Aral Diuciamo a fare un catch Una trappola Zacc non muore Mf muore Zacc è morto Non l'ammazziamo Sto battendo dalla mid Sono midline ragazzi Clear Bravo giusto Manca ieri da botte Ieri Ieri è lì Vai Paolo La sita a quelli che ti servono Sti reeri è spottata Ti vengo a dare una mano Ari Ah botte Contro dei vari No l'ho manca No ma è colpa Non mi aspettavo Ingaggioso Bravissima Bravissima Bene bene ragazzi Non ho l'umana Giochiamo per Baron Baron Vision Perlomeno Mi prendo anche io Ok allora io Faccio dopo Se botta Dove Baron Vision Amici Il loro Baron Abbastanza lento Con quel team Si Ieriia è grossa Però E' un medio Baron Manderanno Ieriia top Manderanno Ieriia top Io ho fatto botte Io perdo l'1v1 con Zacche raga Quindi mi serve Che c'è solo E' molto veloce Cerchiamo di giocare Io aspetta a farmi vedere Botta Perché si Manda Io sono in posizione Qua c'hanno sputato Occhio Qua c'è una guarda Ma solo vuoi provare a prendere Ieriia O no Non lo so E' offtempo Lo so E' offtempo Baron Vision E' presa veramente bene Ragazze Giocate Giocate Sulla Baron Vision Io Abbiamo bisogno di questa abilità Di mid Aspetto di anche L'era mid Ragazzi Che mi sarebbe Potrebbe essere qui All flash inventi Aspettiamo 20 secondi A frittare E' Nami cosa sta facendo Non ci arriviamo in tempo Io più che altro Lo sortare Volete forzare Io posso tippare Non era più lì A guardare Ragazzi Dobbiamo tenere la mid Pusciata però Sì ragazzi La mid Questi i miei Vanno presi 5 Venga Sarman forche Ari non c'è Ci sono Ci sono occhi che relazacchiamo Morire No Non muore Mi racerete La tua occhio E perché c'è Le stagite Sul sito Incaggiano Occhio che ingaggiano Quanto io Ti facciamo 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 in avanti Calma Ha flashato Spurno Non riesco a portare Mi chiamo bec che dice relia Occhio che flash Mi devi tradare Ah la passiva Arrivando su Ragazzi fuori dai pensieri Stiamo giocando come i cani Stiamo nella testa Stiamo nell'azione Givappiamo Baron Parliamo di cose utili Reali Di cose che possiamo fare Non di cose che non facciamo Dobbiamo riuscire a gestire Quello Zac che tira dritto Per tutto il fight Arriva la backline E mi stoppa Zac tira dritto Ma a mio avviso Dobbiamo ignorarlo Dobbiamo andare per la backline E provare a uccidere Irelia Nami Mf E poi ci giriamo sulla fronte Ok Tradiz Che lo può fare Ok Possiamo provare dei piccoli Non subiamo le engaging Ingaggiamo per primi Ok Ascoltatemi un secondo Gioco back Zac viene da me Ulto in Ok Quindi ignoratemi E io ulto in Bene Facciamolo Ma ovviamente Una fanta play Dipende se ci abbiamo Stando avanti O pivuto avanti O flash Ce l'abbiamo Lo stand avanti Si può fare Il prossimo fight Ok Gruppiamo al drago Vieni Ale Dai Questo mi spaga Per me si può Chi va a fare Su Drake Se Fanno il bar Non si può fare Che è un bene Siamo molto sotto Vogliamo Vabbè Qui si può Prendere Vai Invinciamo Vince Close fight Vinciamo Io Presi Però No È anche colpa Di un ragazzo Allora Io chiedo delle cose Ovviamente Nella maniera Sbagliata Si vinciamo Ma deve Tauntare Deve Prendere Barili Deve Prendere Barili GP E dobbiamo Rispettare La ultima Merfe Siamo forti Noi Ma sono forti Anche loro Non possiamo Flashare In Senza Avvizzare Prima Il team E aspettare Che il team Segua È irreale Abbiamo La ultima GP Abbiamo Il town Diari Abbiamo La ultima Di Leona Con calma Non dobbiamo Forzare Ok Difendiamo Andiamo Non è finita Non è finita In Con calma Con calma Con calma Occhio che vi cattano back Dei dare Dei dare Dei dare Dei dare Niente da dire Niente da dire Ah no Vai versate un po' No Io ho giocato Occhio che vi cattano